Game System Italia nasce quasi 30 anni fa e si è sempre dedicata alla messa in sicurezza delle situazioni a rischio cadute dall'alto o spazi confinati. La formazione sin da subito è stato uno dei nostri cavalli di battaglia, è seguita da un centro dedicato, abbiamo uno staff completo che si occupa appunto di creare corsi anche ad hoc per aziende o clienti che hanno necessità particolari. Facciamo prevalentemente corsi verso la nostra clientela quindi nelle loro sedi ma da quasi sei anni abbiamo aperto un centro di addestramento qua presso la nostra sede dove ci occupiamo di fare corsi a chi non ha una sede o eventualmente a chi ha dipendenti nuovi o necessità particolari. Quello che la nostra clientela apprezza di più è il fatto che riusciamo nel nostro ambito quindi nel settore dell'anticaduta a gestire a 360 gradi quello che è l'iter e il percorso generale. Un corso di formazione per il lavoro in altezza o per spazi confinati si divide in due parti c'è una parte teorica e una parte pratica. La parte pratica noi la riteniamo molto importante perché l'addestramento a risolvere le situazioni che il corsista si troverà davanti quotidianamente è per noi il punto fondamentale. Il nostro settore quindi quello del rischio cadute dall'alto è quello non con il tasso di rischio più elevato in termini di incidente quotidiano ma è quello con il rischio di mortalità più alto. Idem per quanto riguarda il settore degli spazi confinati quindi gli obiettivi prefissi sono esattamente quelli di formare sia in termini di utilizzatore dei sistemi sia in termini di creare una procedura corretta per poter fare le attività lavorative nella maniera più sicura possibile.